Questa mattina mi è arrivata, come mi sono svegliato, una comunicazione telepatica dai corrotti, deviati servizi degli esterni e mi hanno beffeggiato in continuazione attraverso la Neural VoIP Communication, che è il sistema di comunicazione telepatica indotta che ci mettono attraverso le frequenze satellitari collegate all'interno dei nervi ottici, all'interno dell'ipotalamo, all'interno dei condotti uditivi, il quale prendendomi in gira hanno detto che stava arrivando il postino per portarmi la notifica della prefettura del sequestro della patente di quattro mesi. Allora io ho detto, sì sì, dite sempre le solite cose, tanto non ci credo che arriverà questa mattina qualcuno. Dopo un'ora e mezza circa che loro hanno effettuato la comunicazione telepatica, mi suona il postino e mi dice che c'era una raccomandata con ricevuta di ritorno e dice che praticamente dovevo scendere con urgenza. Allora io scendo, prendo la raccomandata con ricevuta di ritorno e praticamente che cosa succede? Che c'erano il fermo della patente per quattro mesi fino a gennaio. Voglio notare una cosa sul blocco della patente e ora vi spiego perché c'è qualcosa che non quadra. Guardate, eh? Guardate. Loro hanno detto che la patente doveva essere bloccata fino a dopo il mio compleanno. Fatalità? La patente viene bloccata fino al 23.01.2014. Come facevano a sapere questi deviati torturatori, sperimentatori su cavi umane che effettuano esperimenti sui bambini, sulle donne incinte, sulle persone indifese, sulle persone malate all'interno degli ospedali? Come facevano a sapere che io sono nato il 14.01? vuol dire che non sono voci quelle che si sentono all'interno del nostro cervello, ma sono proprio operatori in carne e ossa che di tanto in tanto si mettono sul neural voip communication all'interno del nostro cervello e ci chiamano proprio in comunicazione telepatica diretta. Hanno detto pure che hanno dato già la segnalazione diretta a tutte le macchine delle forze dell'ordine di tutta Italia che se io disgraziatamente salgo su una macchina o su un motorino o su uno scooter e mi incammino guidando i mezzi, loro chiameranno immediatamente i stessi operatori delle parti operativi speciali di Roma e li faranno intervenire nel luogo dove io sto stazionando, dove io sto camminando, con lo stesso sistema della stessa tecnologia che hanno utilizzato per fermarmi a forza quando stavo provando lo scooter. E nessuno poteva sapere che io stavo provando lo scooter, solo se mi vedevano con i satelli di spia e mi effettuavano attraverso la mappatura cerebrale le frequenze deduttive vedendomi attraverso i raggi X nel garage dove io stavo provando lo scooter prima di poterlo comprare e fatalità il 10 febbraio del 2001 dopo un anomalo fermo dei carabinieri è accaduta tutta questa catastrofe. Allora vi dico che cosa, come hanno fatto quel giorno e come faranno in seguito. Il giorno del fermo del sequestro dello scooter, io venivo visto su dei monitor triconometrici attraverso i reparchi operativi speciali che mi vedevano in localizzazione latitudinale e longitudinale. Questa localizzazione permette di vedere il mio puntamento satellitare come se fosse un GPS delle macchine e loro sanno in tempo reale tutto quello che faccio e tutto quello che dico perché mi vedono con le frequenze a scansione sia risonanza magnetica che raggi X è come se vedono attraverso un body scanner e sono in grado di vedere come i check-in dell'aeroporto vedendo le frequenze organiche e vedendo le frequenze inorganiche e vedono attraverso la scansione fisiognomica del mio corpo attraverso 400 punti di localizzazione fisiognomica in digitale sul mio viso e 4000 punti su tutto quanto il corpo. Allora che cosa hanno fatto questa mattina? Stamattina sapevano perfettamente che era stata effettuata la notifica alla prefettura perché loro possono accedere a tutti i database relativi alla prefettura, relativi alle procure, relativi ai tribunali e possono entrare nei database per vedere ogni tipo di situazione che succede sia direttamente attraverso gli archivi centrali che sia direttamente attraverso i collegamenti in rete o attraverso i collegamenti wireless di qualunque tipo di sistema telematico esso sia o di qualunque tipo di telefono di qualunque tipo di intercettazione telefonica. Allora che cosa hanno fatto loro? Hanno effettuato una sorta di manipolazione diretta cambiando determinate frequenze. Quando ha suonato il postino loro hanno detto guarda che sta arrivando qualcuno prima che arrivava il postino e hanno detto adesso ti citofonano e fatalità io ho detto basta con questi giochetti l'abbiamo capito che lo fate apposta. Fatalità dopo tre minuti esatti si è sentito ci è sentito citofonare. Indovinate chi era? Era il postino che mi ha portato la notifica del fermo di quattro mesi della patente. hanno detto i torturatori all'interno dei laboratori in comunicazione dell'epatica hanno detto che se io adesso esco da casa ed esco da casa guidando qualunque tipo di mezzo loro chiameranno tutti i reparti operativi per farmi mettere nelle zone dove io sto andando nei posti dove io sto andando nelle strade dove io sto andando qualunque tipo di posto di blocco immediato o addirittura mi faranno venire dietro le motocivette i falchi le macchine speciali dell'intelligence e dei servizi segreti le macchine speciali delle parti operativi dei nuclei operativi che mi hanno già fermato in precedenza e mi faranno fermare a forza facendomi ritirare la patente in data da stabilire e poi mi hanno detto adesso come farai per andare a lavorare visto che ti abbiamo levato la patente e visto che ti vediamo come si vede dalla fotografia sul monitor in tempo reale in qualunque posto vai in qualunque posto andrai e qualunque cosa fai in tempo reale e io gli ho detto ma io posso andare a piedi e dove vai a piedi e noi faremo in modo in maniera che ti dovremmo effettuare una manipolazione celebrale forzata per mandarti in posti dove te sarai costretto a prendere dei mezzi tuoi propri per spostarti io ho detto ma avete già bruciato il motore della macchina ve lo siete dimenticati che mi avete surriscaldato il motore e me l'avete fuso vi siete dimenticati che mi avete bruciato le centraline del del motorino e mi avete creato delle gravi dei gravi danni all'impianto elettrico allo statore alle bobine con il surriscaldamento forzato attraverso le frequenze a raggi x frequenze a microonde e frequenze a risonanza magnetica diretta all'interno di questi di questi apparecchiature elettroniche del motorino e loro mi hanno detto allora fatti prestare qualche mezzo te lo fai prestare te ne va in giro poi noi ti facciamo fermare così ti sequestrano il mezzo che stai portando devi pagare la multa alla persona che ti ha prestato il mezzo e in più noi ti blocchiamo nuovamente la patente dice adesso non ti potrei più muovere io gli ho detto se non mi posso più muovere mi sposterò in altro modo e loro hanno rinsistito nel frattempo state vedendo adesso un video che farà vedere alcune macchine queste macchine hanno delle telecamere attraverso un sistema di digitalizzazione facciale e di scansione corneale e di analisi vocale che immettono all'interno di un sistema tutto quello che dico tutto quello che io vedo tutto quello che io penso tutto quello che io deduco di fare viene analizzato da questi sistemi e questi sistemi sono sistemi sperimentali immessi all'interno di un elettroencefalografo satellitare che viene utilizzato attraverso un trasponder che viene immesso dal satellite all'interno dei laboratori di questi torturatori sperimentatori di alte tecnologie e di satelli di spia che ci mappano il cervello e poi rivendono le nostre frequenze alle società private che rivendono le tecnologie alle forze armate italiane e non solo e le mazzette vanno a destra e sinistra di centinaia di milioni di euro utilizzando cavie umane che gratuitamente devono sottostare a queste torture a queste sperimentazioni e loro prendono soldi appalati state vedendo sui video una anteprima di alcune tecnologie che verranno utilizzate in poco tempo e che verranno vendute a determinate luoghi italiani e determinati deviati italiani che usano e sfruttano i soldi dello stato per far comprare a forza questi sistemi tecnologici che in realtà senza il sistema del controllo celebrare a distanza si eliminerebbe in italia eliminando il controllo della manipolazione cerebrale si eliminerebbero il 50 per cento della criminalità esistente nel territorio nazionale italiano mentre sto parlando i torturatori mi stanno minacciando di morte in continuazione e mi stanno dicendo che verranno loro stessi quando morirai o quando ti faranno suicidare o quando ti faranno buttare sotto qualche autobus come hanno fatto con centinaia di altre persone in italia hanno parlato di 15 milioni di morti dal 1970 da quando hanno dato i satelli di spie le altre tecnologie a certi reparti un po particolari deviati che prendono le mazzette dallo stato italiano e che prendono le mazzette dalle società che progettano e collaudano queste tecnologie hanno praticamente immesso all'interno del mio cervello una sorta di tortura continua e loro adesso stanno dentro i laboratori con un analizzatore di spettro a raggi x e stanno puntando le pressioni celebrali satellitari all'interno del cervello puntando direttamente dentro l'irite dentro l'irite del cervello e dentro gli occhi in continuazione e nello stesso tempo stanno all'interno di laboratori dei servizi segreti o laboratori dell'intelligence o laboratori delle società paramilitari che operano per collaudo su cavi umane di queste tecnologie all'interno dei laboratori vi dico con cosa stanno facendo in questo momento hanno un monitor a raggi x e a risonanza magnetica che vede dentro casa mi vedono nel colore ambra nel colore celeste e in un colore chiamato colore monocromatico che dovrebbe essere verdino invece quando utilizzano le torture il corpo lo vedono in colore monocromatico e le frequenze che immettono sul corpo le vedono colorate perché immettono le frequenze dirette avete visto adesso il video che passava attraverso la scansione di come vedono il nostro corpo e di come vedono le cose che noi abbiamo di come vedono il nostro cervello in tempo reale attraverso i sistemi gps fatalità nel video si vede una un anomalo monitor che è stato messo un anomalo a scansione avete visto scansione visiva scansione delle impronte digitali attraverso il digitalizzatore a frequenze e sistema operativo e l'operatore che parlava e diceva quello sta lì quello sta là quello sta là ma non è detto che queste tecnologie vengano date a persone oneste che le usano per scopi pacifici ma invece dentro questi laboratori con i sistemi satellitari devono creare i tossicodipendenti devono creare i criminali perché hanno detto se no debellano determinati reparti determinate sovvenzioni dello stato e determinati appalti di manutenzione dell'alta decologia e determinati appalti per la compraventi dagli armamenti militari satellitari ad armi ad energie dirette su cavie umane un saluto amici dirette su cavie umano Ah! Ah!